Martedì notte gli agenti del commissariato di pubblica sicurezza di Alghero hanno denunciato in stato di libertà per detenzione di sostanza superfacente un 41enne algherese con precedenti specifici di polizia. Gli agenti, transitando in via Sebastiano Satta, hanno fermato l'uomo che durante il controllo ha manifestato subito un'insofferenza tale da indurre gli operatori ad approfondire le verifiche. Durante l'ispezione all'interno del suo zaino sono stati ritrovati due involucri di nylon trasparente contenenti 36,4 grammi di marijuana ed un pacchetto di sigarette vuoto contenente in involucro in Cana Stagnola con altri 3 grammi dello stesso stupefacente. Dopo il sequestro, l'uomo è stato accompagnato negli uffici del commissariato e gli è stata preannunciata la denuncia in stato di libertà.